Nella scuola di Amici 18 ci si prepara per la registrazione che si terrà oggi, 1 febbraio 2019 È stata per tutti una settimana molto turbolenta e difficile, soprattutto a causa delle numerose sfide alle quali tutti hanno dovuto sottoporsi Sfide che hanno anche visto l'uscita dalla scuola di alcuni ragazzi, come Daniel Picciriello e Alana Hanno invece fatto il loro ingresso ad amici due cantanti, Ludovica e Federica, entrambe molto brave e conosciute già nel corso dei casting Le sfide però non sono ancora finite e, anche nello speciale registrato oggi e in onda poi domani su canale 5, assisteremo ad almeno due sfide, quelle di Mogli e di Gefeo Al centro dello studio di Amici è pronto però a tornare anche Marco Alimenti che nel corso di tutta la settimana si è impegnato tantissimo nelle prove della coreografia assegnata lì da Timur Stefans Marco contro Federico, chi vincerà? Oggi, infatti, scopriremo se Marco riuscirà a riconquistare il banco oppure sarà lo sfidante Federico a prendere il suo posto Entrambi si esibiranno sulla coreografia assegnata loro da Timur e il migliore dei due, giudicato da un commissario esterno, potrà indossare la maglia degli allievi di Amici Ci sarà poi chiaramente spazio per una nuova sfida a squadre. Squadre che questa settimana sono notevolmente cambiate e non soltanto per l'ingresso di così tanti nuovi elementi Ricordiamo che i due capitano lo sono da oggi rispettivamente dell'altra squadra. Tichè capitano di Atene, quindi Giordana di Sparta Tutto a causa di alcune incompatibilità, ormai irreversibili, trattisce Alberto Che oggi, nel corso della registrazione, arrivino chiarimenti anche su questo aspetto Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie a tutti